ciao ragazzi e ben ritrovati allora cominciamo oggi con una nuova rubrica che è un po una rassegna di quelli che sono stati i marchi di auto italiane e soprattutto alcuni marchi che purtroppo sono finiti nel dimenticatoio di certo dino non è il marchio che è finito nel dimenticatoio però ci tengo a partire da questo per fare un po di chiarezza su come è nato e soprattutto sul fatto che in primis è stato un marchio a sé stante e poi in secondo luogo è stato un po assorbito ed è diventato soprattutto del riguardante alcuni modelli allora primo punto da citare chi di voi ha visto il film le man 66 ford versus ferrari allora film eccezionale che consiglio di guardare anche a chi non è appassionato di auto però in una parte del film soprattutto all'inizio si vede come ford è stata ad un passo dall'acquistare ferrari ferrari navigava in cattive acque enzo si era reso conto che l'impresa non poteva continuare come gestione familiare e quindi stava valutando appunto la vendita la vendita non è andata a buon fine quindi enzo ha rifiutato perché praticamente ford ha detto che non gli avrebbe lasciato totale carta bianca sulla parte sportiva quindi sulla scuderia quindi cosa succede l'affare va a monte era guidato da lì a cocca tra l'altro grandissimo manager l'affare va a monte e praticamente ford si accanisce particolarmente contro ferrari e chiede alla fia di implementare delle regole molto molto strette per quanto riguarda il poter utilizzare dei motori per per le corse e in particolare lo scoglio più grande era la richiesta di avere dei motori derivati da modelli omologati e prodotti in minimo 500 esemplari ferrari che allora era ancora più che oggi una fabbrichetta artigianale non riusciva a progettare e produrre in così poco tempo 500 motori e quindi pensò sostanzialmente di coinvolgere la fiat siamo nel 1965 e fiat e ferrari decidono di fare questo accordo questa joint venture creando il marchio dino in cui fiat appunto avrebbe aiutato a produrre i motori si tratta appunto di 2004 di cilindrata 6 cilindri av e 2000 sempre 6 cilindri av motori che vanno dai 180 ai 220 240 250 cavalli dipende un po dalle varie versioni adesso sicuramente c'è qualcuno che mi guarda che che lo sa ancora più precisamente quindi cosa succede si parte nuovo marchio dino e cosa significa per ferrari innanzitutto la distinzione è il rettangolo la forma rettangolare del marchio mentre invece per fiat la forma circolare le case le due case automobilistiche svilupperanno in maniera del tutto indipendente dei modelli che marchiati dino per quanto riguarda la parte ferrari venivano venduti sì nelle concessionarie ferrari ma con un listino totalmente a parte perché appunto si tratta di dei modelli più entry level rispetto a quello che faceva appunto all'epoca ferrari quindi avevano paura di intaccare un po la la nomea del brand mentre invece fiat userà appunto esclusivamente il marchio dino però lo lascerà all'estino fiat no perché appunto per fiat era comunque un'occasione per aumentare la brand equity o comunque la percezione di di marchio di marchio premium allora andiamo a vedere quali sono i principali modelli voi sapete che a me piace andare nel concreto e non prendere foto stock ma cercarmi i modelli che sono attualmente in vendita vedete infatti questo bellissimo annuncio recente del 7 marzo di una fiat dino coupé esemplare del 71 il 2004 quindi il motore principale sostanzialmente per cui è stato creato l'accordo questa fiat dino coupé classico l'impostazione classica con il retro alla shooting brake o comunque sostanzialmente senza l'accentuazione del terzo volume al netto di questa particolarità il design è abbastanza classico e anche l'impostazione ovvero trazione posteriore e motore anteriore questo sostanzialmente è la fiat dino vedete appunto l'utilizzo del logo dino anche sul cofano e nei coprimozzi questo esemplare tra l'altro ha la targa asi targa oro corredato di libretto ancora dell'epoca e via dicendo per un valore appunto attorno ai 50 mila euro la macchina vale appunto sì dai 40 ai 60 più o meno parte casi particolari auto costruita questa tra le varie versioni sia il 2000 che il 2004 in più o meno 7 8 mila esemplari vi do un ordine di grandezza non lo so il numero il numero esatto preciso carrozzeria bertone carrozzeria bertone quindi tutta la meccanica fatta da fiat e la joint ventures con ferrari per per il motore e carrozzata bertone passiamo invece alla versione sempre fiat dino spider vedete che ci sono dei punti in comune ma che non è semplicemente una dino coupé senza il il tetto rigido tant'è vero che l'auto è carrozzata da pini in farina quindi il progetto è stato portato avanti da da pini in farina parte che belli questi colori proprio tipici degli anni degli anni 70 allora questa tra l'altro essendo più recente è marchiata fiat perché cosa è successo che fiat poi ha acquisito ferrari tra l'altro che ha visto il film lo lo vedrà fiat ha acquisito ferrari e a quel punto non si sono accorti che non valeva più la pena mantenere in vita un marchio sestante dino e sono semplicemente diventati diventati dei modelli questa versione spider a me sinceramente piace di meno come come linea ne hanno fatte di meno però perché ne hanno fatte due o tre mila tant'è vero che vale di più vale in media direi tre volte tanto la coupé la spider ok passiamo invece adesso la parte ferrari qua viene il bello bello perché abbiamo la allora in questo caso è una dino 246 quindi 2004 sei cilindri av gts guardate che splendore allora la colorazione anni 70 questo bronzo può piacere non piacere a me personalmente piace tantissimo però guardate che macchina guardate che macchina logo dino ferrari era molto più rigida nel senso che ferrari non ci teneva necessariamente ad associare le dino al marchio ferrari era avevano un listino a parte vuole appunto creare un altro tipo di approccio con queste auto a sei cilindri molto lussuose molto belle ma non così tanto sportive esasperate prestigiose quanto le ferrari le ferrari dell'epoca su quest'auto tra l'altro c'è un'altra bella storia è una storia che tra l'altro potrebbe interessare molto a agli utenti che ci seguono da los angeles perché so che ce ne sono gli utenti che ci seguono da los angeles perché questo modello in una colorazione verde tra l'altro rarissima è stato oggetto di è stata sotterrata era stata rubata e sotterrata in un giardino alla periferia di los angeles quindi una una storia che in un altro video vi vi racconto c'è un bel po di materiale è una bella storia allora andando avanti fiat ha via via poi dismesso l'utilizzo di dino nel senso che le uniche due fiat dino sono sono queste due con ferrari sono poi andati avanti con la 308 gt4 che vi faccio vedere adesso in diretta e anche questa appunto una ferrari entry level è stata venduta fino al 1980 sia in versione 308 ovvero 3.800 cilindri a v che in versione 208 2.800 cilindri a v un motore particolare un 2.800 cilindri perché in italia appunto le vetture sopra i 2.000 di cilindrata venivano pesantemente tassate allora un'altra cosa degna di nota per quanto riguarda dino è che i più attenti lo so si sono già accorti dino ha a che vedere con la mitica lanciastratos la regina dei rally degli anni 70 un'auto per cui potremmo stare giorni e notti a parlare perché monta motore dino 2004 6 cilindri a v quindi abbiamo vinto quanti tre o quattro campionati mondiali di rally con la stratos anche grazie al motore dino guardate che macchina ragazzi la stratos è veramente qualcosa di incredibile incredibile e niente come vi dicevo l'avventura del del marchio modello dino si chiude nel 1980 con la 308 gt4 di cui di cui vi parlavo marchio molto interessante a me a me affascinano molto tutti i modelli i miei preferiti personalmente sono la dino coupé fiat di stampo fiat e la 246 la 246 è eccezionale rimanete con il giusto hype utenti da los angeles perché vi arriverà vi arriverà un'altra storia e niente questo appunto è il primo video per quanto riguarda il marchio dino eventualmente faremo altri video approfondimenti ed è anche il primo video su una rassegna che voglio fare sui marchi italiani che non sono più in uso vedi un auto bianchi vedi un innocenti molto interessante andare a approfondire anche la innocenti ce ne sono anche molti altri che non sto a dire adesso fatemi sapere un po cosa ne pensate se vi è interessato l'argomento mettete like iscrivetevi e ci vediamo alla prossima ciao